Ogni volta che cerchi il telecomando o il cellulare, dove sarà? Dove l'ho messo? Quando ritorni a casa non sai dove appoggiare il cellulare, ma da oggi questi problemi non ci saranno più. Abbiamo creato per te Zapping, il porta telecomandi e telefonini per tutte le dimensioni. Facili da montare, basta incastrare le due parti nell'apposita guida, applicare i gommini antiscivolo e il gioco è fatto. Ora puoi appoggiare Zapping su tutte le tue superfici. Come potrete vedere il design è stato studiato per essere adattabile in qualunque situazione e stile di arredamento. Inoltre si può scegliere in due colori diversi, il classico nero e l'argento. Nella confezione sono compresi due Zapping a tre o quattro fori, da utilizzare in base alle grandezze dei vostri telecomandi o cellulari. Non farti scappare questa sciccheria, Intergross ti propone solo novità da tutto il mondo. Grazie a tutti.